Ciao da Avsim! Finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, questa sera mercoledì 19 maggio 2021 alle 21 in diretta sulla Rai. Non con questa maglia che è stata abbandonata silenziosamente nell'ultima partita con l'Inter, la nuova maglia esordirà stasera, non ce l'ho ancora, aspettate. Poi ci sarà anche il mio unboxing e quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, ma parliamo appunto di Atalanta-Juventus. Con le conferenze stampa della sera prima vi ho già parlato di quella di Pirlo e Chiellini, ma dobbiamo riparlarne perché si sono un po' mescolate le carte dopo la conferenza stampa di Gasperini con Freuler. Perché c'è stato anche un botto in risposta tra Chiellini e Freuler. Ma prima andiamo ad inquadrare questo tipo di partita per capire dove si gioca la sfida, perché non è soltanto sul terreno del Mapei Stadium con oltre 4.000 tifosi. Per la prima volta dopo mesi ci sono tifosi sugli spalti di una partita di calcio italiano, ma è una partita che si gioca e si è giocata, se vogliamo, da mesi su tanti fronti, a tanti livelli. E comincerei dal massimo livello, quello presidenziale, con Percassi che ha chiarito che dopo quella vicenda, quella storia di Agnelli che aveva denigrato, se così possiamo dire, l'Atalanta poco più di un anno fa, il fatto che l'Atalanta non meritasse di andare in Champions League, visto il suo percorso storico a danno della Roma, visto il percorso storico della Roma stessa, appunto Percassi ha sottolineato come dopo quella frase Agnelli si sia chiarito, abbia provato a scusarsi, a chiarirsi e quindi episodio risolto. Però poi a che cosa assistiamo? Assistiamo ad un'Atalanta che è in Champions League, matematicamente prima della Juve e che per la prima volta in questi anni finisce, anzi per la prima volta nella storia probabilmente finisce davanti alla Juventus, sicuramente per la prima volta in questa gestione. E lo ha sottolineato Gasperini in conferenza stampa, è vero che la Juve in questi anni ha sempre vinto lo scudetto, quindi nessuno si è piazzato davanti alla Juve, ma il primo anno che la Juve non ha vinto lo scudetto l'Atalanta è matematicamente davanti alla Juve. Torneremo dopo su questo perché Percassi ha anche detto, ma questo prima della vigilia di questa partita, la Superlega era una assurdità e quindi vedete che ci sono tante partite nella partita, ci sono, ripeto, a tanti livelli una rivalità e un confronto, anche dal punto di vista politico e filosofico del calcio, se vogliamo. Sapete come la penso sulla Superlega e quindi non sono esattamente d'accordo con Percassi, però capisco assolutamente il suo punto di vista. E poi appunto c'è Gasperini, Gasperini che è stato quasi 20 anni alla Juventus e poi però è esploso, si è affermato da tutt'altra parte, altrove. Prima al Genoa ma soprattutto adesso all'Atalanta, portando l'Atalanta tre volte consecutivamente in Champions League a giocarsela ai massimi livelli. Che chiede di capirlo che Pungolato con la domanda 6 al primo anno da allenatore, alla seconda finale, che è anche la seconda per Gasperini che però allena da un sacco di tempo in più, non ha risposto secondo me in maniera troppo rispettosa nei confronti di Gasperini pur sottolineando la bravura, appunto il fatto che Gasperini si stia togliendo tante soddisfazioni. Ecco, e se c'è questa battaglia, se c'è stata anche questa tra volendo Agnelli e Percassi con il Carna, se volete, a rispondere, quindi a far piazzare l'Atalanta, nostro malgrado, o meglio, malgrado l'Atalanta nel senso che è la Juve che ha perso, perso, perso punti in classifica in questa stagione ed è sprofondata di varie posizioni, c'è anche, se vogliamo, oltre alla sfida sul campo, quella appunto tra Chiellini e Freuler. Perché Chiellini si è permesso di dire, si è permesso di dire, e dopo ci arriviamo anche a questo, poi vediamo anche alcune statistiche e naturalmente le formazioni in vista di questa gara, che uno degli obiettivi della Juventus, o comunque una delle interpretazioni, delle prospettive da cui guardare questa partita è quella di spezzare la favola dell'Atalanta, una favola che va avanti da anni con questi piazzamenti per la Champions League, con questa presenza in Champions League in maniera assolutamente meritata, dicendo il fatto suo, giocando la Champions in maniera assolutamente dignitosa ed anzi, ottenendo il rispetto di tutto il calcio europeo, cosa che hanno sottolineato comunque sia Pirlo che Chiellini, però questo discorso di spezzare la favola dell'Atalanta mi sembra abbastanza anacronistico, considerando appunto che l'Atalanta è in Champions League, la Juve potrebbe non esserci, e in ogni caso l'Atalanta ha finito il campionato matematicamente proprio davanti alla Juve. E allora la risposta di Freuler è esattamente quello che Chiellini si è meritato di ricevere. Freuler, ovviamente pungolato dai giornali perché non credo che avesse ascoltato in diretta la conferenza stampa di Pirlo e Chiellini, ha detto, ah sì, noi siamo una favola, beh, se loro vogliono continuare a ritenerci una favola, facciano pure. Intanto noi siamo qualcosa di più concreto perché dietro tutto questo c'è tanto lavoro, c'è tanto merito in quello che abbiamo ottenuto e siamo appunto davanti a loro in classifica, oltre ad averli battuti e l'altra volta invece abbiamo pareggiato. Cosa vuoi rispondere a Freuler? Niente, che per l'ennesima volta Chiellini ha sbagliato a parlare. Non è un bravo capitano, possiamo dirlo? Qualcuno si offende? Non me ne frega. Chiellini è uno dei peggiori capitani della storia della Juventus. Non mi sono mai sentito rappresentato da Giorgio Chiellini come capitano, chiamatelo come volete, ma ancora una volta ha dimostrato di non poter rappresentare la Juventus e di farci fare solo figuracce, perché lui avrebbe potuto portare molto più rispetto con le parole all'Atalanta e ammettere la superiorità dell'Atalanta in questa stagione. Pirlo poi non ne parliamo, ma ne ho già parlato ieri. Sappiamo che tipo di partita affronteremo e sarà uguale alle altre due. E quindi tu pensi di affrontare la partita di stasera come le due precedenti dove non si è mai vinto? Bene, andiamo benissimo. Senza contare che ha pure detto l'Atalanta ti porta a giocare ad un livello quasi europeo, quindi il calcio italiano è inferiore al calcio europeo. Grazie Pirlo e comunque tanti auguri di buon compleanno, vabbè, che capita oggi. Massimo rispetto per l'uomo, massimo rispetto per il calciatore, ma come allenatore, insomma, forse si farà Pirlo, ma per il momento poca poca roba. E dicevo, l'ammissione quindi di Pirlo che il calcio italiano è inferiore a quello europeo non c'era neanche bisogno che lo dicesse lui, anzi, finalmente qualcuno che lo ammette, ma anche da questo punto di vista la Juve in ambito europeo cosa ha fatto in questa stagione? Non esattamente cose esaltanti, neanche nella stagione scorsa, e quindi evitiamo magari di andarcela a giocare su un piano quasi europeo perché non è il nostro piano, non è il nostro livello. Gasperini ha sottolineato, ripeto, che l'Atalanta è finita davanti alla Juve in questa stagione, ma ha anche detto che non possiamo pensare di partire favoriti contro la Juventus perché comunque la Juventus sono degli animali nell'affrontare questo tipo di partita, cioè sono attrezzati, sono organizzati, lo fanno da anni, e poi c'è appunto però la sua speranza e la sua fiducia, la confidenza di Gasperini in se stesso, nella sua squadra, di poter comunque vincere e di lottare per vincere, di giocarsela per vincere questo trofeo, che sarebbe una ciliegina sulla torta, ma a mio avviso non dovesse arrivare la ciliegina, la torta dell'Atalanta, almeno in questa stagione, è sicuramente migliore della torta della Juventus, poi per gli anni passati non si discute, non si discute obiettivamente, però dal punto di vista della programmazione, della progettualità, dell'investimento tecnico, l'Atalanta può insegnare tanto alla Juventus e la Juventus dovrebbe imparare tanto dall'Atalanta. Quindi ottima risposta di Froil, ripeto, Chiellini ha sicuramente sbagliato, ha sicuramente sbagliato nel modo di parlare, perché non era esattamente il modo in cui inquadrare la vicenda, poi leggo anche degli elogi al grande capitano che rinvia i discorsi sul suo futuro per evitare di destabilizzare la squadra, ma pensate veramente di poterci prendere in giro noi tifosi? Cioè è chiaro che Chiellini non ha parlato del suo futuro perché vuole forse ancora restare, spera ancora di poter restare alla Juventus e non si arrende al fatto che noi gli hanno offerto il rinnovo e che probabilmente dovrà andarsene via. Ma vi pare che l'ambiente, cioè i suoi compagni, non sappiano già quali sono le sue intenzioni e ci sarebbe stato bisogno magari di sue dichiarazioni pubbliche per destabilizzarlo l'ambiente? Mi pare evidentemente di no. Né puoi destabilizzare i tifosi che tanto stanno a casa, tranne quei pochi che saranno lì a sostenere, spero bene, con vivacità e con sportività da entrambe le parti, la squadra, le squadre. E quindi parliamo di una retorica evidentemente fuori luogo, semplicemente Chiellini sta pensando anche ai fatti suoi e come capitano in conferenza stampa ad imporsi titolare, ma anche perché Bonucci purtroppo si è fatto male, non è esattamente la migliore scena che come tifoso della Juventus avrei voluto vedere. Soprattutto con un Chiellini che fino a qui, in questa stagione, ne ha procurati di danni alla Juventus. Io ovviamente mi auguro che la Juve stasera vinca, stravinca, ci faccia divertire, ci faccia gioire e che Chiellini sia magari anche il migliore in campo. Anzi no, perché se Chiellini è il migliore in campo vuol dire che tanto bene non abbiamo giocato, perché il migliore in campo dovrebbe essere un centrocampista, un attaccante, ma comunque spero nel meglio, meglio che non è quello che ho visto in conferenza stampa. Vediamo però come sono andate le due partite di questa stagione già contro l'Atalanta in campionato e quali potrebbero essere le formazioni. Beh, lo sapete, Juventus-Atalanta è terminata 1-1, Atalanta-Juventus 1-0 ed è anche lì che abbiamo perso la corsa Champions, oltre che lo scudetto. Nella partita d'andata la Juventus fece il 55% di possesso palla, quindi l'Atalanta 45, fece 7 tiri in porta su 12 totali e 10 comunque nell'area di rigore dell'Atalanta contro l'Atalanta che fece 15 tiri totali, ma 6 in porta, 1 in meno e solo 6 nella nostra area. Vedendo questi dati fu una Juve che se la giocò effettivamente alla pari, il che non è neanche confermato, anzi è smentito se vogliamo, dal dato degli expected goals, fonte Understat, perché la Juve strameritò di fare ben più di un goal, ma ricordate per esempio il colpo di tacco di Morata, queste situazioni che ci hanno accompagnato proprio per tutta la stagione, quindi fece un 2.7 expected goals, quindi avrebbe, ha costruito, costruì per segnarne 3 di goal, l'Atalanta 0-9, quindi legittimando il goal segnato e nulla di più. Quindi se vogliamo due punti buttati, con una Juve che faceva anche un bellissimo pressing, 7 come numero PPDA contro 12 dell'Atalanta, quindi una riaggressione molto più frequente e intensa da parte della Juve rispetto ad un'Atalanta che, conosciamo bene, porta la partita sempre su alti ritmi. Nella partita di ritorno la Juve aveva imboccato un sentiero di involuzione tattica e ne abbiamo parlato abbondantemente nel video speciale di tattica con l'amico Pier Giorgio che è uscito ieri, vi invito a recuperarlo, come la Juventus può battere l'Atalanta in finale di Coppa Italia e di conseguenza, pur mantenendo lo stesso possesso, 55 la Juve e 45 l'Atalanta, andò a fare solo due tiri in porta su 14 totali e 6 nell'area atalantina contro l'Atalanta che ne fece, anzi no, il contrario. L'Atalanta ha 14 tiri totali, 2 in porta e 6 nell'area della Juventus, la Juve 11 tiri totali, 1 tiro in porta e 9, di cui 9 poi nell'area nerazzurra. Dal punto di vista dei expected goals, leggera prevalenza dell'Atalanta, ma comunque una sostanziale parità, quindi se vogliamo una partita da pareggio, 0-98, 0-1, anzi 1, 1 praticamente per l'Atalanta, quindi un goal, un expected goals e quindi sostanzialmente un goal ampiamente veritato, la Juve 0-8. Con un PPDA, dicevo, segno dell'involuzione, e cioè la riaggressione dell'Atalanta fu da 8 rispetto a 12 dell'andata, quella della Juve da 9 rispetto a 7 dell'andata. Come vedete la Juve che va in cascata, che va in caduta dal punto di vista della proposta di calcio. E quindi se queste sono state le partite, è difficile che affrontarla nella stessa maniera possa portare ad una vittoria e quindi ad alzare il trofeo. Con quali giocatori? Solo Kovalenko assente per l'Atalanta, solo Alexandro squalificato assente per la Juventus, ma Borucci pur convocato non potrà entrare neanche un minuto. E quindi la probabile formazione dell'Atalanta è la mia proposta di formazione per quanto riguarda la Juventus. Gollini tra i pali, difesa con Toloi, Romero e Palomino, a centrocampo Ateborg, Deron, Freuler e Gosens, Malinowski e Pessina in appoggio a Zapata. La migliore formazione dell'Atalanta, anche se hanno pure altri giocatori molto validi che possono subentrare. Però questo è chiaramente il migliore undici iniziale per la squadra di Gasperini e c'era da aspettarselo perché appunto hanno una sola assenza e tra l'altro loro domenica possono tranquillamente perdere, anche se punteranno probabilmente a battere il Milan perché piazzandosi al secondo posto rispetto ad un eventuale quarto beccano ben 5 milioni di euro in più. Ed è una cosa sicuramente significativa, oltre alla soddisfazione per l'Atalanta di finire, credo per la prima volta nella storia, al secondo posto nella classifica di Serie A. Ma non hanno la pressione di dover vincere col Milan, cosa che invece ha la Juventus e quindi l'Atalanta può esprimere il massimo del suo potenziale e diciamo spendere il massimo delle sue energie nella partita di stasera anche su 120 minuti, a differenza della Juventus che io farei scendere in campo così. Chiaramente Buffon tra i pali perché è l'ultima con la maglia della Juventus anche se fuori casa e quindi poi è portiere della Coppa Italia quindi Buffon tra i pali. Purtroppo terzino destro deve giocare per forza a quadrado perché appunto Alexandro è squalificato e Danilo deve essere dirottato a sinistra perché Frabotta è tornato convocato dopo settimane in cui era totalmente sparito e Bernardeschi, che doveva diventare il nuovo terzino sinistro ha smesso di giocare da un mese e non gioca terzino sinistro forse da due o tre sempre per la coerenza e linearità di Pirlo. Ovviamente difensore centrale è De Ligt ma io lo metterei sul centro-sinistra mettendo sul centro-destra De Miral non Chiellini titolare, questa è la mia formazione tanto voglio essere sbugiardato tranquillamente con De Miral che quindi con la salita di quadrado slitta leggermente sulla destra e De Ligt resta centrale come perno arretrato per appoggio come difensore per la costruzione perimetrale con Danilo che si affianca a lui più che andare a rafforzare la mediana. A centrocampo quindi Kulusevski davanti a quadrado ad entrare anche un po' dentro il campo partendo dalla destra con Artur che io vorrei tornare a vedere titolare se sta bene perché è un giocatore di qualità nettamente superiore a Bentancur e a Rabiot ma metterei comunque Bentancur dall'altra parte anche perché è squalificato per l'ultima col Bologna e dite quello che volete a me Rabiot contro l'Inter non è piaciuto. Chiesa naturalmente stratitolare purtroppo però a sinistra perché con questo fatto che quadrado deve giocare a destra non abbiamo la possibilità di mettere appunto Chiesa sulla sua fascia migliore ma potrebbero esserci delle inversioni nel corso di partita e io in attacco metterei Dybala con Ronaldo ben consapevole che non giocherà Dybala dal primo minuto perché dal punto di vista tattico a Pirlo serve Morata e anche del fatto che un Morata potrebbe effettivamente essere più utile di Dybala in certe situazioni di gioco ma io vedo molto meglio la costruzione sulla destra con quadrado che va a lungo Kulusevski che stringe Dybala che si abbassa con magari il taglio centrale di Ronaldo dalla sinistra e Chiesa che dà profondità dall'altra parte rispetto invece a come si sviluppa il gioco con Morata con gli stessi altri interpreti intorno a lui e cioè quadrado, Kulusevski, Chiesa e Ronaldo ditemi naturalmente se siete d'accordo con questo tipo di formazione fate se volete anche il vostro pronostico e non ci resta che aspettare il fischio di inizio ma vi ricordo che al fischio finale il mio post partita sarà live su questo canale con chat aperta agli abbonati grazie allora per la vostra attenzione like al video se vi è piaciuto buon dibattito nei commenti e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video tra cui il post partita di Atalanta-Juventus con la Coppa Italia assegnata all'una o all'altra squadra e anche l'unboxing della nuova maglia home Juventus 2021-2022 ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti